Ciao a tutti cazzoni volanti, in questo video la Rapsodia vi mostrerà la sua bellissima casa su Minecraft. Siccome mi sono già sfracassato i coglioni di scrivere ve la vedete e io nel frattempo mi faccio una sega. Fapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfap. Sburdida davidisio ai faiodefavidabo si che goduria. Ok ho finito. Allora. Questa è la mia piattaforma di legno, ispirata dal capobastone, per conservare le barche nel caso debba attraversare sto cazzo di lago. Nello sfondo ho progettato una scritta del mio gruppo preferito. Vi piace? No. Che cazzo me ne frega. Questo invece è un mio collegamento creato appositamente per prendere per il culo le teste di cazzo che cercano di entrare in casa mia per griffare e rubare i tesori. Poveri coglioni, non sanno che sono sempre più furbo di loro. Questa è la mia postazione personale, dove mi godo i miei film con My Sky HD sul televisore al plasma in alta definizione, e un audio digitale Dolby Digital Surround della Madonna. Sotto abbiamo letti per i barboni, non si sa mai, qualche giorno potrei avere ospiti. Oltre alla vasta libreria non c'è un fottuto cazzo, se non la cucina di fronte alla postazione personale. Ma aspettate, che ora arriva il bello. Assicuriamoci di aver chiuso per bene la nostra porta con il collegamento, non vorrei avere visite in momenti non opportuni, come questo. No, merda, ho sbagliato. È un po' difficile, dovrò inventarmi qualcosa. Ecco, finalmente l'ho trovato. Questa, signori, è l'entrata per la cripta segreta della Rhapsodia. Il tragitto è un po' lungo, per far confondere le idee alla gente che, in qualche caso, si infiltrerà di nascosto, a mia insaputa. Per fortificare l'entrata, ho arricchito la porta di ferro con i Neterrock. Rompendo i Neterrock, solo con la Creative Mode, possiamo accedere alla leva che apre la porta di ferro grazie ad un meccanismo segreto di pietra rossa nascosto sotto il pavimento. Ed ecco a voi, signore e signori, la cripta nascosta della Rhapsodia. Se posso chiedervi un favore, cercate di trattenere gli orgasmi. Ho messo tre bauli, cioè, uno per i tesori di guerre, uno per dinamiti e materiale infiammabile, e un altro per cazzate varie. Vi piace l'idea? Ne volevo mettere un altro, però mi dispiace, un baule forever alone. Lololo XD. Questa è la cripta, signori, niente di così particolare. Sapete, un tempo diventerà un museo di trofei di guerra e a quei tempi sarò ricco sfondato e mi farò leccare il culo dalle veline di striscia la notizia è colorado. Che bella vita. Adesso, vi porto a fare un giro fuori da casa mia. Le prossime tappe sono, la chiesa del male, seguaci del capobastone e qualche cazzata in più che non serve a niente. Vi piace la mia opera d'arte? Non ci ho messo un cazzo, ma per le due s di Kiss ci ho messo una madonna di tempo. Però, tutto sommato, mi piace. Quella che avete appena visto è la mega torcia, mentre, questa, è la famosa chiesa, di cui vi ho parlato prima. Una vera figata lolololo. Forse è meglio se cambiamo targa. Ecco, la semplicità. Io amo la semplicità. D'accordo, entrando notiamo una croce rovesciata con un tetto fatto di lapislazzoli. Una vera figata. Ovviamente non celebro le messe, io, faccio celebrare le messe per guadagnare qualche spicciolo in più. Ok, devo ammettere che questa baracca mi mette tristezza, angoscia e sinceramente fa venire la diarrea. XD, l'ultima cosa sono i due cactus eretti. Bene il video è finito. Ciao. XD